Simpatica per quello, e poi diceva la verità, se giocavi bene ti diceva che avevi giocato bene, se giocavi male ti diceva la cosa opposta. Avevo l'abitudine che quando volevo la palla tiravo via quella roba che c'era intorno. Sì, basta via. Sì, basta via. Sì, basta via. Sì, basta via. Tanto più che la partita ci ha mostrato nella riserva Ballacci un degno moschettiere. Dino Ballacci!